Quanto è buono questo Gregor! Fottutamente buono! Buonissimo! Cazzo! Che delizio! Assolutamente appetitoso! Dove scappi? Ehi sì eccomi sono ancora io Il tuo amichevole piccione di quartiere Volevo solo farti vedere quanto sono forte Che devi avere paura di me Perché posso scaraventarti via Proprio come questo Gregor Attento guardati le spalle Buu! Piccolo scherzetto! Dunque ciao Non so bene come si faccia un reading vlog Perché è la prima volta che faccio una roba del genere Ma non so neanche in realtà Se continuerò a portare questo format sul canale Perché comunque prima di parlare di un libro Solitamente io ho bisogno di avere le idee abbastanza chiare Avere un resoconto totale e complessivo della situazione Perché potrei incappare in costanti controsensi Cioè potrei esprimere un'opinione cinque minuti prima E cinque minuti dopo avere un'opinione completamente diversa Quindi insomma per evitare un po' di paciugo Preferisco sempre leggere tutto il libro e poi parlarvene Però in questo caso con la trilogia della Città di K Mi è venuto proprio spontaneo E quindi insomma volevo parlarvene passo passo Cioè in un primo momento è stato un libro veramente super coinvolgente I capitoli sono brevissimi perché il libro è diviso in tre parti Ecco mi sono tornata, ho dovuto appoggiare tutto Perché sennò mi veniva un crampo al braccio Comunque il libro è diviso in tre parti Il grande quaderno, la prova e la terza menzogna Il grande quaderno è stata per ora la parte più interessante, più scorrevole I capitoli sono molto brevi, molto densi di informazioni E anche pesanti perché in tutti i capitoli davvero si verifica un evento crudo O comunque doloroso, difficile da assimilare e da metabolizzare E quindi inevitabilmente il libro si fa divorare Penso di aver letto le prime cento pagine più o meno in un'ora e mezza Massimo proprio Quindi davvero per la prima parte non c'è niente da dire Andando avanti quindi entrando nella seconda parte Cioè la prova Mi sono ritrovata a rallentare molto Non solo perché i capitoli diventano molto più lunghi Insomma si allungano perché in realtà come massimo secondo me Sono 5-6 pagine i capitoli anche nella seconda parte Quindi non è che abbiano subito veramente una variazione incredibile Però insomma considerando che nella prima parte i capitoli durano massimo 3 pagine Nella seconda si allungano e quindi il ritmo inevitabilmente rallenta Però è proprio anche la storia che si fa più confusionaria Parlandone con molti di voi su Instagram Dato che ho fatto comunque degli aggiornamenti di lettura in merito È emerso che fa parte del gioco Cioè alla fine tutto quadra E ovviamente era quello che speravo Nel senso che se poi dobbiamo andare a incasinarci la testa e la vita Anche no abbiamo già i nostri problemi E invece in realtà poi alla fine tutto combacia Non so ancora in che modo andrà effettivamente a combaciare Perché purtroppo sempre su Instagram Durante questi miei fantastici e intelligentissimi aggiornamenti di lettura Qualcuno di voi purtroppo senza forse neanche accorgersene Mi ha fatto un mega spoiler O almeno io credo che mi abbia fatto un mega spoiler E se questo mega spoiler coincide Coincide, corrisponde con la realtà dei fatti Cioè con quello che andrà ad accadere Io sono molto contenta Molto contenta Cioè in tutto diventa molto molto figo Spero che sia così Se così non fosse Non so proprio come potrebbe andare a finire Cioè Come potrebbe andare a finire? Secondo me Potrebbe finire sul piano psicologico Dico solo questo Voi però Io ho dato per scontato che sapeste Della trama di questo libro In realtà l'ho dato per scontato Perché nel mio precedente video Ve ne ho parlato un pochino Dato che ho fatto un book haul Dei libri che avevo acquistato Con la mia compagna di Merenda Marica E niente praticamente Proprio per stringere al succo Ci sono due gemelli Luca se non mi ricordo neanche più Il nome dell'altro Oddio Un grande vuoto E Klaus E Klaus Lucas e Klaus Sono due gemelli Che si trovano In una situazione molto difficile In un periodo storico difficile Ossia quello Della seconda guerra mondiale La madre li abbandona dalla nonna Perché purtroppo non può più tenerli Essendo che poi vivevano In una città poco sicura Quindi questi due bambini Cominciano la loro vita Con la nonna Che purtroppo però È una nonna Terribile Li offende Li maltratta Però In fin dei conti Gli permette di sopravvivere In qualche modo Anche se in realtà Sono loro che fanno sopravvivere lei A tutti gli effetti Quindi è un romanzo Che parte già crudo Difficile Con condizioni estremamente Al limite Si verificano un sacco di episodi A sfondo sessuale Negativi Nel senso che Non c'è nulla di positivo Sotto questo punto di vista Ci sono soltanto incesti Ci sono soltanto Abusi su minori Che però Da quello che ho capito Nel novecento In quel periodo Erano comunque Normali Ok Io Tutte le volte che incontravo Questo genere di situazioni Nel libro Mi sentivo proprio Gelare il sangue Ad ogni modo Nella prima parte È tutto un susseguirsi Di esercizi Che fanno questi gemelli Per sopportare di più il dolore Per farsi scivolare addosso Gli insulti E insomma Le cattiverie Da parte degli estrani E da parte anche Di loro nonna Fanno l'esercizio Dell'immobilità E quindi rimangono fermi In giardino Per ore Per allenarsi A rimanere fermi In caso dovessero averne bisogno Cominciano a studiare tantissimo A studiare non solo Le semplici materie Non imparano soltanto A scrivere A leggere Ma proprio si impegnano Per riuscire a fronteggiare Qualsiasi tipo di ostacolo O di evento Che altrimenti Si troverebbero in difficoltà Ad affrontare Fanno esercizi sul digiuno Perché nel caso in cui Dovessero rimanere senza cibo Almeno sarebbero più forti Da un punto di vista fisico Addirittura si picchiano Tra di loro Perché hanno subito Anche violenze E quindi Per evitare di star male Di nuovo In determinate situazioni Cercano di Fortificarsi In tutti i sensi Cioè si preparano Al peggio della vita Il loro rapporto È veramente molto Morboso Addirittura Quando erano più piccoli Erano stati Separati Per un certo Lasso di tempo A scuola Ma dovettero Necessariamente Riunirli Nella stessa classe Perché addirittura Se non ricordo male Vabbè l'ho letto ieri Però Se non ricordo male Uno di loro Era svenuto Forse entrambi E quindi Proprio per una questione Fisica Avevano necessità Di rimanere sempre uniti E quindi proprio Si mostra sin da subito Questo rapporto Quasi come se fossero La stessa persona E mi soffermo Un po' qua Però ecco In un secondo momento Capita un evento Dato che è un vlog Di lettura Un reading vlog Dovrei poter Spoilerare qualcosina Quando è passato Del tempo E che quindi Hanno vissuto La loro vita Con la nonna Eccetera eccetera Si arriva Ad un certo momento In cui si separano Uno dei due Riesce a scavalcare Il confine E l'altro Rimane Fondamentalmente Da solo A continuare A vivere la sua vita E Eh Eh Da lì Non si capisce più un cazzo Cioè Sono ferma Cioè sono ferma Mi sono Molto 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 Rallentata E mi dicono tutti Che è normale Io lo spero Io lo spero Continuerò a leggere Magari tra poco Adesso mi vado a fare Una doccia Perché ho bisogno Proprio di Rinfrescare La mente La vita E tutto E E poi continuerò Il libro Credo proprio Mentre mi lavo Buongiorno Buongiorno La mia testa Questa domanda Ma è necessario Continuare a scrivere Di questi episodi A sfondo sessuale Tra parenti Quindi incesti Tra adulti E adulte E bambini Cioè Non è un po' Too much Cioè non è un po' Troppo Io ho capito Che sicuramente Era un periodo storico Molto intenso E quindi C'erano situazioni Completamente Disastrose Di disagio mentale E di confusione Quindi Nel bel mezzo Della disperazione Dove tutto è lecito Quindi durante la guerra In teoria È tutto lecito Anche Nelle Diciamo Nell'ambito civile E quindi Sì Si possono verificare Situazioni anomale Come quelle appunto Che una Una signora Sfrutti Due bambini A livello sessuale Così come anche Non so Per dire L'ufficiale Così Chi era Il tenente Che Insomma Abusa dei bambini Ma in realtà Cioè Abusano un po' tutti Di questi bambini E Va bene Può essere inserito Un episodio Qua e là Per farci capire Comunque questa Questa difficoltà E questo disagio Ma Ogni cinque secondi Cioè In tutti i capitoli Io Lo trovo un po' forzato Cioè Come se l'autrice Ci volesse far capire Che Sta scrivendo un libro crudo Spiattellando continuamente Questo tipo di episodi Cioè È crudo Ok Però andiamo oltre Cioè Ci sarà qualcos'altro Per cui Tutto è difficile Non ci saranno Solo episodi sessuali Oppure Va bene Vogliamo basare Tutto su questo Fantastico Sicuramente Ci sono anche Altre parentesi Di riflessione Ovviamente Non soltanto Quelle riguardanti Il sesso Però È molto protagonista Molto protagonista Quindi a un certo punto Mi viene da dire Basta Basta Cambiamo discorso Oppure Almeno Andiamo oltre Cioè Adesso mi hai fatto vedere Tutta la cacca Poi Dov'è lo sviluppo Cioè Quando è che comincia a cambiare Ripeto Sono a metà libro Quindi Può essere che Il cambiamento Che io sto aspettando Capiti proprio adesso Nelle prossime pagine Però Fino a Fino a metà libro Insomma È tutto così Allora La prima parte Quindi quella dove ci sono I capitoli brevi E la parte che appunto Si chiama Il grande quaderno Non lo sentivo ancora pesare Appena sono entrata Nella seconda parte Dopo invece Ha cominciato a pesarmi Questa cosa Della sfera sessuale Spero che cambi Spero che ci sia Un risvolto A un certo punto Perché comincia ad annoiarmi Allora Sono arrivata Alla fine Della seconda parte Io non riesco bene a capire Non riesco bene a capire Perché Intanto La parte centrale Quindi il secondo libro E L'inizio Del terzo Sono molto lenti Molto deboli Di trama Secondo me Almeno A questo punto Non so neanche Se queste parti Siano utili Alla Alla risoluzione Di tutto Sto patatrack Che c'è Non lo so Non lo so Se io non avessi ricevuto Quel famoso spoiler Dalla mia compare Su Instagram Secondo me Io sarei stata Abbastanza scettica Nel continuare la lettura Nel senso che Quello spoiler Mi ha un po' Riattivato i sensi Mi ha spinto ad andare Più veloce Ecco Cioè magari Mi sarei adagiata Sugli allori In un altro caso Invece Con lo spoiler Sapevo che sarebbe Arrivato un momento Di svolta Per ora Sembra che questi due gemelli Non siano mai esistiti Cioè che ce ne sia Soltanto uno Cosa che pensavo Di aver capito Dallo spoiler Cioè nel senso Questa persona mi aveva detto Ma quindi saranno Una o due persone E lì ho pensato Ok aspetta Non mi dire più niente Non voglio più sapere niente Però forse È stato tutto frutto Dell'immaginazione Di questo bambino E quindi effettivamente Prendeva un risvolto Psicologico Mi sto intortando Con le parole Sembra di sì Sembra di sì Vediamo come Andrà avanti Allora Sto andando avanti Con la lettura Sembrerebbe Che pian pianino Si stiano sviscerando Tutti gli eventi Che effettivamente Dovrebbero essere accaduti Però Mi sembra Che questo sia Molto un caso Di narrazione Inaffidabile Cioè tutto quello Che stiamo leggendo In realtà Potrebbe non essere Assolutamente vero Anzi molto probabilmente Anche perché In una prima parte Del libro Adesso sono A terzo libro Inoltrato Nella prima parte Del libro I personaggi Hanno determinati ruoli Mentre In questa parte finale Cominciano proprio A cambiare Di posto Cioè praticamente Si sta riscrivendo Completamente la storia Tutti quelli Che erano I personaggi Che conoscevamo Stanno assumendo Posizioni E ruoli Completamente Differenti Dalla prima parte Va bene Quindi insomma C'è un gran casotto Tutto sembra essere Confuso Non ci possiamo fidare Di quello che leggiamo E niente È un vero e proprio Caso di narrazione Inaffidabile Chissà Chissà come Finirà Adesso continuo Attenzione In questa città C'è un uomo Che si chiama come lei Lo stesso cognome E anche Lo stesso nome Klaus T Klaus con la K È dunque evidente Che non può trattarsi Di suo fratello Ho preso informazioni Sul suo omonimo È uno dei poeti Più importanti Di questo paese La libraia Che mi ha affittato La penna Scrive sotto pseudonimo Si firma Klaus Lucas No Ce l'aspetta Si firma Klaus Lucas No Aspetta Non ho capito No 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 Aspettate Venite un attimo qua Perché io sono Parecchio confusa E disorientata Allora Allora Praticamente Sono a poche pagine Dalla fine E È sempre più Attorcigliata La situazione Il libro ha Continui flashback E salti temporali Anche se non sto capendo Se siano veri Salti temporali E E pian pianino Si stanno sviscerando Tutti quelli Che sembrerebbero Essere gli eventi Accaduti Klaus ha ammesso Il Klaus con la C Che non ha mai avuto Un fratello Gemello E che quindi Si è inventato Tutto Per Sopperire Al dolore Alla solitudine Al senso di abbandono Dopo che appunto È stato lasciato Dai suoi genitori In Una sorta di centro Riabilitativo Non so Comunque un centro Per chi aveva Disabilità E appunto Si è sentito Talmente tanto abbandonato D'aver creato Questo Questo suo gemello Ma nonostante ciò C'è ancora traccia Dell'altro gemello Che in teoria Non doveva esistere Che prima però esisteva Poi Cioè praticamente C'è ancora traccia Di questa Di questa persona Perché colpo di scena A un certo punto Viene fuori Che c'è questo omonimo Klaus T Con la K Però Che esiste Cioè praticamente Siamo partiti Che esistevano due gemelli Poi a un certo punto Ne esisteva soltanto uno Poi però adesso Che è arrivato di nuovo Anche il secondo gemello Cioè non Praticamente Dopo questo libro Mi servirà Sicuramente Una seduta alla psicologa Anzi adesso la chiamo Andiamo avanti Andiamo avanti E terminiamo Cioè leggiamo per Finire Al più presto possibile Cosa? Ok Devo scrivere Ci siamo Tenetevi forte Questa è la mia teoria Dunque ovviamente Questa sarà tutta la parte Più spoilerosa del mondo Quindi insomma Se non avete letto il libro E siete ancora qui Mi dispiace per voi Per gli spoiler precedenti Però ora è meglio telare Tradotto Meglio andare via La mia teoria è che Il manoscritto Che stava scrivendo Lucas È quello che effettivamente Abbiamo letto nel primo libro Ossia Il grande quaderno Lucas Essendo rimasto solo Per tutta la sua infanzia E per tutta la sua vita Ha trascritto Né il grande quaderno Il suo manoscritto Quindi quello che avrebbe voluto vivere Ossia una vita insieme a suo fratello Perché in realtà Da quello che sembra Nella terza parte Esistono veramente I due gemelli Lucas e Klaus Semplicemente sono stati separati Quando erano piccolini Perché la madre Che ha scoperto il tradimento Del padre Con un'altra tizia Ha sparato al padre E per sbaglio Ha anche sparato a Lucas Che è rimasto ferito E quindi è rimasto invalido E quindi è stato rinchiuso Poverino Per insomma Riabilitarsi In questo centro Per invalidi E quindi automaticamente Si è separato Da suo fratello Che ha vissuto la sua vita Con un'altra famiglia Tra l'altro La famiglia in cui ha vissuto Era composta da Una donna E da una bambina La donna Era la tizia Con cui il padre Aveva tradito La madre dei due gemelli Capite a che portate A che livelli siamo E quindi niente I gemelli hanno vissuto Separatamente Lucas Ha vissuto una vita Più triste Probabilmente Mentre Mentre Coso Klaus Con la K È comunque vissuto In una famiglia Che gli voleva bene Quindi Lucas Per scappare Per evadere Da questo suo grande dolore Di solitudine Si è rifugiato In una storia Che si è inventato Successivamente Crescendo Essendo più difficile Mantenere viva La presenza del fratello In questa vita Non reale Lo fa uscire Dalla sua vita Attraverso l'episodo Di attraversamento Del confine Cioè io praticamente Ho pensato Ok Quella scena In cui i due gemelli Aiutano il papà A scappare In realtà È la scena Tramite cui Effettivamente Lucas Fa uscire di scena Dalla sua testa Suo fratello Klaus E successivamente Si immagina di vivere Una vita Con Yasmin Con Matias Che sono in realtà Però personaggi fittizi Che non esistono Matias si suicida Cioè il bambino A un certo punto Purtroppo si suicida E in realtà Però probabilmente Questo evento Così traumatico Che porterà un sacco Di problemi A Lucas In realtà Questo evento Dovrebbe essere Qualcos'altro Che lo fa scattare Perché Matias Non è mai esistito Quindi non si può suicidare Quindi Lucas Non può rimanere Traumatizzato da ciò Probabilmente Rimane traumatizzato Da qualcos'altro E ad un certo punto Lucas fa lo switch Mentale E diventa Klaus con la C Che tra l'altro È l'anagramma Di Lucas Klaus con la C Quindi automaticamente Noi siamo ancora più Diciamo invogliati A credere In una certa parte Del romanzo Che la persona Sia soltanto una Lucas Klaus Ecco Lucas Klaus con la C Anche se in realtà Poi si scopre Che ce ne sono di più Comunque Sembra di essere Dentro la mente Di un folle Però poi Io credo Che Lucas Non ha continuato A vivere Nella città di K Come si pensava Perché lui Si immagina La sua vita Con Yasmin e Matias In teoria Lui dovrebbe essere Nella città di K A fare tutto ciò Ma secondo me Lui non è mai rimasto Veramente Nella città di K Quando suo fratello Ha attraversato Il confine Perché prima Questa cosa Che suo fratello Ha attraversato Il confine Non è mai accaduta Cioè non è mai successa E la seconda cosa Per cui credo Questo Che lui Non abbia mai vissuto Nella città di K Poi tutta la sua Parte Adolescenziale Insomma Adulta Perché quando si spaccia Per Klaus Quando switcha Nella mente Diventa Klaus Con la C In realtà Lui ha il permesso Di stare nella città di K Per un certo lasso Di tempo Cioè ha un visto Che gli consente Di rimanere Fino a un certo punto Della storia Poi però Deve tornare Nel suo paese E questo ci fa capire Che in realtà Lui Nella città di K Non ci ha mai vissuto In età adulta Ma che probabilmente Ha vissuto Nella stessa città Di Klaus Con la K Questo mi viene da dire Perché Mi chiedo Com'è possibile Che Lui Avesse bisogno Di un visto Per rimanere Nella città di K Se comunque Fino a quel punto Aveva vissuto Nella città di K Quindi La realtà È quella descritta Nell'ultimo libro Ossia Che due gemelli Sono stati separati In seguito alla sparatoria Quindi madre Che uccide il padre E sparatoria Che ha ferito Lucas E che lo ha costretto In un centro di riabilitazione E ciò che è stato scritto Nel primo libro E nel secondo libro In realtà È tutta riaffritta Cioè nel senso È tutto nella testa Di questo Lucas Che è smattato A un certo punto Quindi La mia domanda è Qual è il fine Del libro? Cioè Basandomi sulle tematiche Trattate È ovviamente Spunto di grandi riflessioni In generale Le emozioni che trasmette Questo romanzo Sono tutte molto forti E interessanti Perché comunque Cioè Ti permette di osservare Tantissimi aspetti Della nostra vita Molto molto Esasperati Ma che sono reali Cioè che accadono Purtroppo a tante persone Che sono accadute a tante persone Più che altro È la parte interessante È l'autrice È il modo in cui L'autrice riesce A trasmetterci Tutte queste informazioni Tutte queste sensazioni Cioè Lo stile è pazzesco Tagliente D'impatto Crudo Asciutto Quindi davvero Tutto arriva Come uno schiaffo In faccia Cioè sono lame Che trafiggono Il nostro corpo Continuamente Per tutta la lettura Però La trama del libro A conti fatti Cosa mi sta a significare? Cioè Tutte le prime pagine Tutte le prime 200 pagine Che poi non sono più prime Cioè diventa proprio il libro Sono Aria fritta Cioè la cosa che mi dà fastidio È che probabilmente Io mi dovrò confrontare Con qualcuno Per riuscire ad avere Una visione A 360 gradi Di tutto il libro Cioè io non posso avere conferma Che tutta la mia teoria Che quindi soltanto La terza parte Sia reale Che quindi tutto quello Che ha vissuto prima Che hanno vissuto prima O che ha vissuto prima È inventato Cioè non posso avere Una conferma Certa Di tutto ciò So benissimo Che l'intento dell'autrice Era quello di metterci In confusione Di creare disagio Angoscia Insomma Era ovviamente Quello il suo intento Anche perché se Insomma non è quello Aiuto Cioè c'è qualcosa Che non va Quindi insomma Capisco L'obiettivo E sicuramente È un obiettivo raggiunto Il problema è che A me personalmente Non mi Soddisfa al 100% La trama del libro Non è esaustiva Cioè è un conto Se tutto avesse avuto Risvolti psicologici E quindi ci fossimo Fermati diciamo Alla parte Che si svolge Nella seconda Nel secondo libro E lì ok C'è una persona Che a un certo punto Per alleviare le sue sofferenze Sdoppia la sua mentalità E in qualche modo Cerca di vivere Al meglio possibile La sua vita Seguendo insomma La sua frattura mentale Ma è un conto Se prima mi dici Sì È lui che si sta Immaginando tutto Poi no Poi sì Poi no Perché in realtà Esiste il Klaus Con la K No con la C C'è una lettera Cambia tutta la storia E quindi dopo Sì Però esisto Però non esisto Però forse È tutto nella tua testa E se è tutto nella tua testa Allora facciamo impazzire i lettori Cioè praticamente Il lettore Sta perdendo Il controllo Della situazione Vi pregherei Di ripercorrere Insieme a me Tutta la storia Tutta la storia A conti fatti Mi è piaciuto questo libro Sicuramente Lo stile dell'autrice Sì Sicuramente Le vibes Trasmesse Sì Sicuramente Il Riuscire a creare Questo senso Di Perdita Di disorientamento Sì Perché Ho letto tanti altri libri Di questo genere E Insomma Narrazione inaffidabile Fondamentalmente E mi piacciono Ma Non potrei dire Uno dei miei nuovi libri preferiti Questo no L'esperienza di lettura Secondo me È da provare Perché è veramente Molto suggestiva Però nel complesso Secondo me Sarebbe stato più figo Creare un altro tipo di trama Che comunque Alla fine Fa quadrare Bene In modo specifico Chiaro I conti Cioè Che fa quadrare I conti A tutti Qualsiasi tipo di lettore Riesce a capire Cosa è effettivamente successo Magari sono io Che non ho capito E quindi Vi chiedo di aiutarmi a capire Cioè Scriviamo insieme In ordine cronologico Che cosa è successo Ma magari no Magari siamo tutti Sulla stessa barca E sinceramente Ne ho sentite tante Di persone Che avevano più o meno La mia stessa La mia stessa Idea Anche se Sapevano che non avevo ancora finito il libro Quindi non c'eravamo proprio soffermate a parlarne bene Che dire Follettine Follettine E niente Questo è stato un libro sicuramente Strano Prima parte top Seconda Gni Terza Ci siamo un po' ripresi Però Il succo Finale È che mi ha dato Tanto tanto Da pensare E Che sicuramente Ha stimolato la mia riflessione Ma che allo stesso tempo Però Non ha soddisfatto a pieno La mia Fame Di risposte E quindi Non posso dargli assolutamente Un 5 stelle Un 4 Per lo stile Un 4 Per l'impatto Quello sì Spero che questo Reading vlog vi sia piaciuto Che insomma Non so bene Se sono riuscita a farlo Nel modo giusto Vedremo magari In futuro Di riproporre più format Di questo genere Nel caso in cui Vi sia andato bene E Mi sono divertita molto A farlo però Aggiornarvi passo passo In merito alla lettura È stato molto stimolante Anche perché È proprio una recensione A caldo Mi raccomando Aiutatemi un pochino A capire meglio Perché io da sola Non ce la posso fare Auguratemi buona fortuna Ciao ciao